Se il video fa almeno 5.000 like ragazzi porterò un altro ospite Se il video va signori porto il figa a rifarla Signori e signori bentornati qui oggi Dopo averla abolita, dopo averla eliminata Signori c'è qualcuno che si è ripresentato volendola fare Bentornati alla super devastante challenge Da 10 minuti Il re con oltre quanti gol? 800 e passa Il re è venuto a fare le 10 minuti e ha detto No no io supero i limiti Questa è una sfida contro te stesso Questa addirittura supera me Va bene non c'è problema Il record Il vecchio record penso che sia stato 27 Fatto da? Lui ha detto Gnabri Gnabri io sono secondo 26 Ok Ma si è presentato dicendo che cosa? Dicendo Dillo bene 50 minimo 50 minimo Un momento di silenzio Abbiamo anche lo staff tecnico che lo aiuterà Signori Questo è il mio uomo Questo è il got ragazzi Dietro la porta far avanti e indietro Sarà il fichera Daniel Uno dei dei uomini più veloci Io mi sono portato la gente fidata Come quello vero A parte che sono io quello vero E poi dico mi porto Mi porto quelli Mi porto bene l'italiano Sì Quanti gol farà? Tra i 50 e i 55 Fai più di 100 tiri qua Sicuro 10 minuti Io ho fatto questa challenge Ciao dottore Signori Ma sono convintissimi tipo Allora È dura Fidatici dura Devi farne il più possibile all'inizio Però secondo me fai 25 gol Stiamo già parlando troppo Esatto Dai dai Signori ricordo che questo video è uncut Ricordo che non c'è censura Ricordo che se siete minori di 18 anni Chiudete il video Grazie 3 2 1 Vai Attenzione parte subito E te La prima E la seconda E la terza Calmo calmo Gestisci le forze Gestisci le forze Non andare troppo forte Piano piano Bravo Signori Challenge No non i palloni Non i palloni Devi prendere Fermo fermo pata Stai tranquillo Bravo Gestisci le Gestisci le Dosa le forze Bravo Vai ora 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 Ma prendi la porta Calma calma I 10 minuti sono tanti Fidati Non sottovalutarli Sono tanti 10 10 sono tanti Stai tranquillo Sono 3 gol Calmo calmo Non è facile Non è facile Calmo Calmo Gestisci le forze Dosa le forze Mi raccomando Bravo Mettitele a posto Poi io ti do consigli Poi io Sei pali Hai preso Bravo Fai andare il portiere Da una parte Ciao Così Beh questo è un po' Un po' male Gestisci le forze A 4 gol Gestisci le forze Bravo Hai già finito i palloni Eh non te li posso dare Te li darei Giuro Giuro che te li darei Non posso Sono nato per questo Non puoi mai entrare Fidati Ti sempre fai i giri Si si Calmo calmo Dosa le forze Dosa le forze Anche lui è stanco Eh qua dovresti Eh qua Mi sa che manco i 10 gol Cardio 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 Anche fighe Ma cosa sei anduto a fare Scusa Ma dentro non posso entrare Non puoi entrare Eh non puoi entrare Nell'aria Occhio Occhio la linea È annullare eh Eh annullare adesso Eh vabbè Ma hai tutti i palloni dietro Hai Eh infatti questi Non capisci perché non usi questi Calma 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 Perché non puoi Ma come non posso E lui Aspetta fuori all'aria Eh ma quelli non puoi Devi stare al limite Non puoi stare sempre fuori al campo Vai vai CR Forza Con questo fiato Ora 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 Finchia sei inciampato Incredibile Beh 6 a 6 Questi proprio quando non ce la fai più Questi qua dietro Dai dai l'angolino Molto bene Fuori però Ricordati che hai questi qua Ricordatelo Vai fighe corri Calma Sta morendo Il fi che sta morendo Il fi che sta morendo Molto bene Eh dai prendi questi Adesso prendi questi Prendi questi Dosa le forze Devi distrarlo da una parte E poi Tenere il specchio Mamma mia Però lui è sempre vicino alla porta Mai che la prendi Mannaggia te Luce però Se calci un pallone Devi mettere 3 o 4 Una volta che la para Ti rilacqua Metti un pallone lì Metti 6 o 7 palloni lì E fai una raffica Così su 7 ne entran 3 Devi prendere ossigeno Bravo Dai 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 Molto bello Un attacca Gino Bravo E tiro di prima Che è per terra Scusa Siamo A quanti minuti siamo Dai Mancano 6 minuti Bravo Respira Come la canzone di Elodie Respira Ah no Non è di Elodie Traversa Oh traversa cos'è Fuori Quanti li fatti bro Non lo so Eh è vero Gol C'è da contarli Che sta tenendo raga No gol Io li sto contando io Sta a 12 gol Ah i gol li stai contando Sì Eh poi lo scopriamo alla fine Io ho detto 25 Sto impegnando Vai vai Oh ti ho dato 25 io Allora adesso devi farmi una raffica Una raffica Dai 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 Mamma mia Dove l'hai messa Devi star calmo Lucido 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 Dai Bravo Adesso È il momento Questo era il momento Qua Ragnar Bravo Questo è un allenamento È cardio È bravo Non bolla lui Ancora Col terzo di seguito Ragnar È rosso Come il rosso Guardate la faccia di Ragnar Vai Vai cazzo Vai Bravo Va bene Uno dopo l'altra Uno dopo l'altra Sfigato C'è il rispetto Tutti a fine di pallo Vanno Eh Un po' la forza sta perdendo Siamo a metà giusto? Cinque minuti esatti Dai 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 Forza Non molliamo Non molliamo Quanto si rende? Non molliamo Non molliamo Eh? Sta poco Dai 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 Vai Cristiano che c'è? Dai 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 E 50 E 50 Bravo dai Prendiamo i 25 prima Avanti tutta con i 25 Dai Stai calmo Oh che f*** è Ti ha sparato? Il f*** è quello che sta facendo più fatica là dietro Mamma mia Eh però calcia bene Oh C'è poco da dire Oh non parla perché non c'è fiato Oh bombole Oh hai 10 Almeno 10 12 palloni Alla tua destra Tutti qua Devi prenderti 4 minuti alla fine Devi prenderti 30 secondi Dove Adesso Vai Bravo No Vabbè però si sbaglia Prendi 30 secondi dove prendi tutti i palloni Sono tutti qua dietro C'è ragione C'è ragione C'è ragione Prenditi tutti i palloni Prendi 30 secondi Poi fai gli ultimi 4 minuti con 20 palloni Quanto siamo Sere? A 3 e 46 secondi ancora No gol Dai 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 18 sta Forza 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 Quello te lo vorrei passare ma non posso Molto bello ma palo Molto bello ma palo Molto bello ma parata incredibile E' volato E' volato il ragno di Melenia Eh ma questo è il mio gol però Sì ma guarda da qua Ragnar E' rosso come le scarpe E' rossissimo zio Calma Quanti gol siamo? 3 minuti alla fine 19 gol Mamma mia ha sferato l'incrocio Ti ha bucato la palla Mettiteli vicino Vai Cristiano Mettiteli vicino Mettiteli vicino Dai 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 Forza Avanti tutta Mamma che gol Comunque le sta facendo di gol Belli Vai Ronaldo Spero anche te Svegliati Cerre minchia Cerre merda Bravo dai Col cuore Non è che lui impara che sull'altro palo Se tu il palo uno ti ritrovari Figa Bravo Dai 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 Tieni lì Tieni lì Bravo Porca Peccato Due minuti alla fine Due minuti Ha preso 26 palli Ha preso Quanti gol siamo? 21 Eh ti ho detto Due minuti Due minuti alla fine Due minuti Questo devi fare Uomo Prendi tutti i palloni e fai l'ultima raffica Fida ti prendi Vai a 22 Ti manca un minuto Un minuto e mezzo Fai gli ultimi tutti quei tiri Non puoi al video che passa la palla Però Prendi più palloni possibile Un minuto e 30 No non puoi Non puoi Non puoi assolutamente Non puoi assolutamente Quanto manca? Un minuto Un minuto e 15 No peccato No Prendi la porta No Non sprecare niente Non sprecare niente Non puoi rimanere in piedi Puoi andare anche di mancino Secondo me No Minori Manca l'ossigeno Tieni Tieni 50 secondi Bravo Manca l'ossigeno anche a Ragnar Bombole Manca l'ossigeno anche a Ragnar Bravo 24 No peccato Manca pochissimo per il record 30 secondi alla fine Dai fai il 25 Che poi c'ho ragione io Non posso bro T7 T5 T4 23 22 21 20 15 secondi 13 12 11 10 No te li dici ancora Ok Dai dai 10 secondi 9 9 8 7 6 5 Detro la Liglia 3 Anulare No 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 Finita Finita Quanti gol ha fatto? Era dentro 25 Lo sa 26 26 Io l'avevo detto ragazzi Il massimo 26 Signori filmate Cristiano È stanco Io ve l'ho detto Signore cosa è successo? Non è così facile come pensavamo No no fidati difficile Doveva essere 50 Cosa non è andato? No ho completamente sbagliato a valutare magari la sfida Però vabbè ci arrivo a dire una roba Ho preso tanti pali Sfortunato un po' Tu hai fatto grandi parate Quindi Sì ma non mi sono neanche tuffato bene No no però comunque a volte la mettevo precisa Lui ci è arrivato quindi a volte che fare complimenti a te Quindi signori andate a seguire il ragazzo L'ho trovato in ambulanza Ha promesso che li farà almeno una volta al giorno questo vero? Sì fatti cosa Una volta al giorno Siamo una cavolata ma ho rivalutato la potenza che dai con il tuo corpo Quando calci Se il video va Se il video va ragazzi lasciate like Voglio almeno 5000 like Se il video fa almeno 5000 like ragazzi porterò un altro ospite Se non va ragazzi è inutile Cioè dipende da voi Se vi è piaciuto Lasciate like È importante È importantissimo Iscrivetevi Iscrivetevi Non fate cominciare a respirare sottovaluta Iscrivetevi Se il video va signori porto il figa a rifarla Porto il figa L'ho detto adesso Porto il figa Pata Tu che sei stato il primo a testarla Minchia io sono morto la prima volta Signori detto questo io ringrazioci a respirare Oh Veramente grazie figa Signori Grazie Pata C'è anche Sergei che è dietro che sta giocando a non so che cosa Sto lavorando A Snake Adapro non ho spiegato anche lui Sto lavorando i film Signori detto questo Ciao 5000 like Ti aspetta 5k Puoi urlare la telecamera Ciao Ciao Ciao